L'uomo è sceso da un aereo, potrebbe essere un gangster, un agente dell'FBI o un pugile suonato in ritiro. Si tratta invece di Jack Palance, il duro dello schermo, non tanto duro però da non essere corso da Roma a Los Angeles per rivedere suo figlio, il piccolo Cody affidato dal tribunale alla madre. Jack Palance è impegnato nella lavorazione di un film in Italia. Da Roma alla California sono 20 ore di volo, qualcosa come 800 dollari di biglietto, che Jack paga ogni settimana per dare un'occhiata alla prole. Perché non mandare il ragazzino ad Ostia non si sa, misteri della psiche dei duri di Hollywood. Nessuna cerimonia speciale all'ufficio ricevimento di Ciampino, anche per l'arrivo di questi distinti gentiluomini dell'Uganda Urundi. Non si è trovato un interprete adatto, in aereo all'ora del pranzo, invece della lista delle vivande, hanno consultato la lista dei passeggeri.